Esonero in caso di sconfitta contro la Lazio. Ben ritrovato amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Non è solo una mia sensazione, questa è la sensazione che hanno in tanti, da giornalisti, opinionisti, tifosi, ma anche gente vicino alla Juventus. Andremo ad approfondire bene quello che sta succedendo in casa Juve perché voi mi direte, BJ, mi hanno detto che hanno dato piena fiducia ad Allegri. Occhio ragazzi, che la fiducia ad Allegri gliel'hanno data, ma aspettate che la Juve non può rischiare di andare fuori dalla Champions League perché perde 100 milioni. Liquidare oggi Allegri ha un costo di 10 milioni di euro. Ma guarda, approfondiamo con calma, vi ho detto già, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perdrete mai un video e siamo sempre live. Lei si dà in Gede, me ne madame, me se è signore e signore, me signore, quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui. Un giorno sì, un giorno. È vero sì che lo stesso Scanavino, come dire, ha rinnovato la fiducia ad Allegri. Ma rinnovare la fiducia ad Allegri non vuol dire che la Juve è libera di fare Karakiri. La Juve oggi, se esce sconvitto dall'Olimpico, ragazzi, mette in seria, ma in seria veramente, in seria difficoltà la società per un semplice motivo, il rischio di non andare in Champions League, il rischio di perdere quasi 100 milioni di euro. E non penso che la società vada così tranquilla se perde 100 milioni di euro e si accondente di una finale di Coppa Italia per andare a giocare la Supercoppa italiana. Io penso che la Juve ha rinnovato la fiducia ad Allegri, ma Allegri deve dare ora i risultati. La stessa curva, vi ho detto ieri, è vicina alla squadra. Nello stesso tempo è vicina al mister. Ma ci vogliono i risultati ora. E se i risultati oggi non arrivano, specialmente se non arrivano contro la Lazio, che ha fatto cambio di allenatore, in banchine è andato Tudor, un nuovo allenatore, se la Lazio fa il risultato uno si chiede guarda la Lazio cambia e non vinceva e inizia a vincere, perché noi continuiamo a perdere sempre con lo stesso Allegri? Questo è un po' il mio ragionamento. Spero che sono stato chiaro, anche perché sono partito dai conti, dove la Juve, se non va in Champions, perde quasi 100 milioni di euro, se non di più, d'introiti, e sonera Allegri viene a costare 10 milioni. 3 milioni di questa stagione, più 7 milioni dell'intera stagione del prossimo anno. Ragazzi, non calcolate i bonus, perché il bonus Allegri li raggiunge con determinati obiettivi. Se non li raggiunge, ce l'esonero, i soldi sono quelli. La sconvitta di oggi può essere decisiva, ve l'ho detto già, perché un'altra cosa che mi viene da pensare, sapete qual è? Quando si dà troppa fiducia ad un allenatore, come è successo la settimana scorsa, con Scanavino, con i stessi tifosi, vuol dire che si mette anche un po' in allerta. Cioè si mette un po' sotto pressione, ti fa capire, noi ti diamo fiducia, ma occhio che ora ci vogliono le vittorie. Ora bisogna incominciare a vincere, perché uno non vittore, la Juve ha il perfetto alibi per dirvi, guarda, ti abbiamo dato fiducia. Noi siamo vicini a te, ma questa sconvitta qui non te la possiamo più perdonare. Anche perché vi voglio dire un'altra cosa. Dopo il pareggio contro il Genoa, ragazzi, ragazzi, Giundoli è sceso negli spogliatoi. Incazzatissimo. Giundoli voleva la testa di Allegri. Giundoli voleva subito l'esonero di Massimiliano Allegri. E si sa che la voce che è circolata era quella di Antonio Conte. Già subito alla Juventus. Poi questa voce, dopo due giorni, io stesso ho detto che è stata allontanata, in quanto la Juve vuole dare fiducia a Allegri, non vuole attualmente, come dire, rovinare l'ambiente, anche se già diciamo che l'ambiente è abbastanza rovinato, vedendo che sette punti in otto partite non penso che ci sia un'aria veramente così pura. E allora, ragazzi, io penso che se la Juve esce sconvitto già dall'Olimpico, non penso che Giundoli riusciranno a calmarlo. Lo stesso calvo che si dice che ha un accordo con Conte. Cioè, ragazzi, qui non si parla più di una o due persone in disaccordo con Allegri. Qui c'è un ambiente intero che si è rotto le scatole. Perciò, carissima Juve, carissima Allegri, noi vi siamo vicini, ma oggi bisogna vincere. Oggi bisogna portare a casa questo risultato, dura, difficile. La Lazio sarà motivatissima, perché in banchina hanno fatto anche il loro cambio di rotta, devono dimostrare la loro ai giocatori che la colpa era di Sarri e non dei giocatori. Ahimè! Ahimè! Cosa succederà a questa Juventus? Non lo sappiamo, perché la Juve non ha voluto cambiare rotta. La Juve, come dire, da stile non esonera, ma non è vero. Perché la Juve all'allenatore ne ha esonerati da Ferrara. Ricordiamo l'esonero di Ranieri molti anni fa, l'esonero di Sarri, l'esonero di Pirlo, dopo aver vinto. Non si capisce per quale motivo Allegri. Dopo tre anni di sciagure, siede ancora sulla panchina della Juventus. Ma come dire, gli rinnoviamo la fiducia. Oggi, stadio olimpico, vogliamo risposte chiare, chiare. Sennò dietro l'angolo, ragazzi, ve lo dico così, secondo me dietro l'angolo c'è un Antonio Conte che sta aspettando anche a stagione in corsa. State, 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 state lì fermi, ragazzi, perché poi direte BJ ha ragione. Andiamo, vediamo, intanto oggi voglio vincere. Io non voglio l'esonero di Allegri, sperando che perdiamo. Oggi voglio vincere, voglio andare tranquillamente in Champions League, arrivare quest'estate, tranquilli qualificati, e poi dire ad Allegri è stato un piacere, are qua e merci. Amici bianconetti, dato che ci siamo, diciamo la formazione, sulle voci che sono ormai corse, diciamo, guarda, Allegri non cambia mai dal suo 3-5-2, ormai non si scosta più, perché secondo, secondo il vangelo di Allegri non esistono altri moduli. Dipesa a tre, con Gatti, Bremer, Daniele, in borsa il nostro Wojciech, Scesni. Esterni, Linghi Junior, se non sbaglio Cambiaso, centrocampo a tre, con Miretti, non c'è me Kenny, con Rabiot, Lucatelli, coppie d'attacco, Chiesa, Kenny. Qualcuno mi dice, ma BJ, ma che fine ha fatto Ildiz? È Ildiz la grande scoperta di Allegri, ma dopo che l'ha scoperto, l'ha nascosto. I misteri, gli enigmi alieni del signor mister Allegri. Amici bianconeri, ci vediamo sicuramente poi questa sera, dopo la partita, per la nostra live reaction, per i nostri commenti a caldo, per Lazio-Juventus. Fino alla fine, forza Juventus, io mi ne voglio, ossa benedica a tutti i picciotti. Ciao!